Musica Abbiamo una nuova sfida per il futuro del porto che è quella del gas naturale liquefatto, il GNL di cui tanto si sta discutendo in questi giorni e auspichiamo che nasca al più presto un deposito di bunkeraggio al porto commerciale di Augusta. Lo ha detto Marina Noè, presidente di Assoporto Augusta, che è intervenuta ieri pomeriggio in un affollato salone al Circolo Unione di Augusta al convegno promosso dalla sezione della FIDAPA sulle donne raccontano il territorio di Augusta, bellezze naturali, patrimonio storico-artistico, economia, realtà attuale, prospettive di sviluppo nell'era digitale. La presidente degli operatori portuali mecaresi, di cui durante la serata di ieri è stato ricordato il ruolo di donna impegnata da sempre nel mondo dell'impresa e in particolare nel settore della cantieristica navale, di cui è ancora oggi espressione, ha aggiunto che Augusta sta vivendo un momento di passaggio e se devono creare le prospettive di una nuova evoluzione per dare ai nostri giovani la possibilità di confrontarsi con un nuovo mondo. Ecco, Paolo Scenzabella, questa sera assemblea dei dipendenti comunali, rivendicano il premio di produzione che l'amministrazione ancora non paga. Perché? Intanto preliminarmente noi rivendichiamo corrette e leali relazioni sindacali. Naturalmente queste corrette e leali relazioni sindacali devono avere un risultato, e cioè il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, ma soprattutto il rispetto della dignità dei lavoratori che non può essere barattata per nessuna ragione e motivo. Ecco, sono 120 i lavoratori che vengono escusi? Sì, intanto sono 120 quelli che noi stiamo, ma credo che siano ancora di più. E quindi noi faremo, stanno ragionando la categoria, di fare una iniziativa sindacale unitaria con tutti i dipendenti, con tutti i lavoratori, e per quanto ci riguarda come Camera del Lavoro, noi saremo accanto alle decisioni che loro prenderanno, noi saremo accanto agli lavoratori e alle lavoratrici dei dipendenti comunali. Nel mese di febbraio 2016 si legge nel comunicato stampa della Lega Salvini Premier di Sortino. Avevamo presentato insieme al professore Pettinato, al sindaco e alla dirigente scolastica una petizione di 300 persone in merito ai riscaldamenti nell'Istituto Comprensivo Columba. Avevamo anche posto all'attenzione la situazione di degrado in cui versa l'impianto di riscaldamento dell'Istituto Scolastico e la reale pericolosità per l'incolumità di minori e adulti che rappresenta allo stato attuale l'intero impianto. Abbiamo chiesto anche un'azione responsabile nei confronti dei bambini e dei ragazzi ospedati nel plesso scolastico Columba per stanziare i fondi necessari per l'improrogabile sostituzione del vecchio e obsoleto sistema di riscaldamento. Considerato che l'impianto è vecchio di circa 40 anni, che la situazione era anche ben conosciuta dall'amministrazione comunale da tempo, anche in virtù delle numerose supervisioni effettuate dai tecnici e vigili del fuoco che hanno evidenziato la necessità di sostituzione completa dell'impianto, tra l'altro anche fuori norma, ma l'accensione è avvenuta ogni anno, sempre in via eccezionale e ad inverno inoltrato, trascurando di fatto i diritti dei minori, che sono le persone più indifese della nostra comunità, nonostante la totale disponibilità verbale dei tanti amministratori comunali incontrati in questi anni. Da circa otto giorni il plesso scolastico Columba, si legge ancora nel comunicato stampa della Lega Salvini Premier di Sortino, è privo di riscaldamenti, in quanto la caldaia è stata dichiarata fuori norma dalle responsabili della sicurezza. Nonostante quindi le numerose segnalazioni fatte fino ad oggi, non è stato fatto nulla e questo è l'emblema di una cattiva gestione della cosa pubblica. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS